ciao ragazzi sono andrea benvenuti nel mio nuovo video voglio guardare un attimo perché mi è arrivato un messaggio e che cosa ma perché ricordate quell'altro video è quello con l'armatura gialla non lo fa più perché ho capito che io parli in un'altra lingua e non fa altro che che non stare con me addio mondo crudele oh aia aia che male era un mondo crudele qui perché cavolo qui c'è una gabbia me lo spiegate ti prego me lo spiegate perché c'è una gabbia perché c'è una gabbia e tutti sono sopra sonia andare in pisceina si sono le scale mobile aia 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 fa che va male aia